Galdo, Idros, corsia 2 Leonardo Vendrame, nord-est a Caluo, in corsia numero 3 lo ritroviamo dopo il dorso Marco Deano, Arca Team in corsia 4 i colori dell'Antares Nuoto, in questa gara Argento ai Criteria e Titolo ai Categoria nell'anno 2017 Alessio Gerardin in corsia 5 parte Achille Valerio Spartan Management, in corsia 6 Federico Baggio Montebelluna Nuoto alla 7 Alessandro Visintin Idros, in corsia 8 Tobia Svaldi Antares Ancora finali, questa è quella junior dei 200 farfalla al maschile con Alessio Gerardin in corsia numero 4, specialista di questa gara dei 200 farfalla abbiamo detto Argento a Riccione, medaglia d'oro a Roma nel 2017 Gerardin che aveva fatto doppietta, doppio oro al 2016 sempre per quanto riguarda i campionati giovanili aveva vinto anche la medaglia di bronzo in Mediterranean Cup sempre con questa gara dei 200 farfalla Gerardin che è anche ottimo stile liberista due volte medagliato di bronzo ai Criteria nei 400 e 1500 stile 58 e 25 il passaggio per lui ai 100 metri con Vendrame 59 e 56 e Deano 59 e 81 in terza posizione verso la virata dei 150 metri ancora con Alessio Gerardin, 31 e 98 il terzo tratto Vendrame 32 e 31 Deano 32 e 83 Gerardin che quest'anno ha già nuotato a Riccione agli assoluti di dicembre 2.00 e 50 Sarà difficile andare a ripetere il tempo degli assoluti in piena fase di carico naturalmente in vista degli assoluti e dei criteri a 2018 soprattutto intanto arriva la vittoria qui a Montebelluna 2.02 e 33 Alessio Gerardin Leonardo Vendrame 2.4 e 26 Achille Valerio per la terza posizione 2.05 e 81 e anche per questa gara tempi E anche per questa gara